Raffaella Carrà abbatte i tabù perché si presenta sul palco con un corpo libero prima che con la voce prima che con le parole esprime un desiderio di libertà di un'intera generazione in quel momento che vuole scaricare la propria energia sul palco Il femminismo dice basta maschere e Raffaella Carrà grida non siamo altro che maschere e ritornare al tempo che c'eri tu per abbracciarti e non pensarci più su ma ritornare ritornare perché quando ho deciso che facevo da me La Carrà è un modello è come se la Carrà avesse raggiunto da subito una classicità che non l'ha più abbandonata che è diventata fuori moda proprio perché icona di stile senza tempo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!